L'Isola dei Famosi, Francesco Monte ritorna nel cast. L'annuncio bomba. Francesco Monte potrebbe tornare nel cast dell'Isola dei Famosi 2018? Ecco il motivo. L'Isola dei Famosi 2018 potrebbe esserci un colpo di scena clamoroso, che riguarderebbe Francesco Monte. Come ben saprete il naufrago di questa ultima edizione delle reality show Mediaset ha scelto di ritirarsi dal programma dopo che è venuta a fuori la clamorosa bufera sullo scandalo droga portato alla luce da Eva Engel. La quale ha denunciato il fatto, che Monte avrebbe fumato droga in Honduras nei giorni prima dello sbarco ufficiale sulla spiaggia dove poi si doveva svolgere il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Colpo di scena all'Isola dei Famosi, ritorna Francesco? Un'accusa molto pesante che ha portato Francesco Monte a ritirarsi dal gioco e a tornare in Italia al più presto possibile per poter affrontare in prima persona questi problemi. Tuttavia le ultimissime indiscrezioni di queste ore rivelano che al più presto Francesco potrebbe ritornare di nuovo in Honduras per una sorpresa speciale all'Isola dei Famosi 2018. Ieri pomeriggio nel corso della prima intervista televisiva, che Francesco Monte ha rilasciato in esclusiva aderissimo da Silvia Toppanin ha parlato del suo rapporto con Paola Di Benedetto e di quello che è successo nel corso di questi giorni sull'Isola prima del suo avvio finale. Ebbene l'extronista di Uomini e Donne ha ribadito di aver conosciuto una bella persona con la quale pare che stesse nascendo anche qualcosa di importante. Il ritorno di Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018 Francesco ha dichiarato che sia lui sia Paola sono reduci da un periodo difficile dal punto di vista sentimentale ma ha precisato che questo flirt nato all'Isola dei Famosi 2018 non sarebbe un chiodo scaccia-chiodo, affermando quindi che l'interesse, eccetera di loro sarebbe reale e non fittizio il fatto a favore di telecamere. Ecco allora che nel corso della chiacchierata di ieri a Verissimo, Francesco Monte ha dichiarato che non esclude un suo possibile ritorno all'Isola dei Famosi per fare una sorpresa ai suoi compagni d'avventura, che ha dovuto lasciare in fretta e furia dopo lo scandalo droga. In tal caso sarebbe un gran bel colpaccio per il reality show e anche per Francesco stesso, che potrebbe salutare come si deve questa isola da cui aveva grandi aspettative. Lui stesso, infatti, ha dichiarato che è stato vittima di un'ingiustizia, e che questa esperienza gli è stata rovinata per niente, visto che ha smentito le accuse che gli sono state mosse da Avenger. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.